Sì, guarda il canale del Drago Freebooter, capisci, è un'illegale. Lei, 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 lei è mia, adesso metto le massime skill. Oh, attenzione! Ciao. Giorgia, giusto? Sì. Piacere, mi chiamo Simone, quanti anni hai? 19. Wow, wow, che età, che età. Senti, Giorgia, allora, innanzitutto cominciamo a parlare perché si parla. Senti, Giorgia, dai, dimmi che cosa, io voglio entrare dentro, no, aspetta, nel senso dentro la tua profondità, voglio entrare dentro a conoscerti meglio. Di dove sei? Genova. Ah, ok, io sono di Genova. In che zona di Genova, lì dove c'è il... No, no, non ci chiedi che sono di Genova? Parla in genovese. Vabbè, questo sono di Genova, non è che sul genovese. Ma si sente un po', è dalla cadenza che... No, 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 sono Genova-Genova, lì dove c'è il muretto, lì con i sassi. Il muretto, esatto. No, sì, sì, dove c'è la... Il Campogia. In Campogia. In Camosci. Camogli. No, dai, dove c'è l'acquario, lì dove ci sono i delfini, porco Giuda. Lì c'è la casa... La casa su una foca enorme! Sarò a Genova o no? No, guarda, veramente, no, aspetta, davvero, sono a Genova. E dove c'è il porticato lì di Genova, quello del porto, no? Dai, abito lì, sul... Nella... Nella... Dai! È Genova, f***a! È Genova, non è che devo dirla via, cioè, vuoi venirmi a prendere? Eh? Non lo so, Georgias. Belin, Belin, eh, Belin. Grazie, Drago Freebooter 2, ti seguo. Bomba, comunque, grazie del supporto.